Il 21 marzo ci sarò, perché il riscatto contro la violenza mafiosa deve ripartire anche e soprattutto dalle scuole e dalle università. Il 21 marzo io ci sono, perché al contrario di quello che ci vogliono raccontare, la mafia esiste anche a nord-est ed è una montagna di merda. Il 21 marzo ci sono, perché il nord-est deve risvegliarsi dal sonno dell'indifferenza. Il 21 marzo ci sono, perché voglio guardarmi indietro e vedere di esserci stata. Il 21 marzo ci sono, perché le mafie non sono una storia da raccontare ma qualcosa contro cui lottare ogni giorno. Il 21 marzo io ci sono, perché la memoria senza impegno è solo un rituale. Il 21 marzo scendi in piazza con noi!